Anch'io voglio uno strumento per intrattenere Questa me l'ha regalata a Mario Allora questa cosa qua Io la suonavo quando andavo all'elementari Dai zitta non ce ne frega nulla Cos'è? No ma è epico Ma è fighissimo se lo ho chio forse È riapparso Alex Alex è grasso nuovamente E viva Body positive Ok Anna dove sei sei morta?